Amore, stasera poi ho messo un'ora dietro, eh? Sì, un'ora! Ma nemmeno due minuti! Ma guarda che parlavo dell'orologio, eh? Scatta l'ora solare da me. Ah, allora ci siamo! Due pecore si guardano al diritto degli occhi. A un certo punto una delle due fa colettare, beh? Beh, perché? Amore, oggi mi hanno licenziato dal lavoro. Come mai? Cos'è successo? Ero seduto sul pullman, mi sono alzato e ho fatto sedere un non vedente. E cosa c'entra con il licenziamento del lavoro, scusa? Eh, che io guidavo il pullman! Babbo, vieni che ti accarezzo un pochino. Ma che cosa vuole questa? Che cosa vuole? Cosa sta facendo? Perché ce li prende? Vattene! Babbo è mio! Soltanto mio! Vieni, babbo, dove eravamo rimasti? Che questa ci sta scassando. Non chiedi prendere più, per favore. E' arrivato un messaggio, è arrivato un messaggio dal gruppo delle mamme. Allora, ascolta. Sentiamo un po' cosa dica. Scusate, il problema di matematica. 20 meno 18, se tu lo fai in colonna, è 18. Se è così, 20 meno 18 sono due bambini. Qual è il risultato? Sto avendo proprio un bloccato, un bloccato con la bella testa. Se lo mettiamo in colonna, 20 meno 18. Cioè, due meno uno, è otto. Se è meno otto, è otto, è otto, è otto. E così, ho un sfumato di oggi. Però se ne facciamo 20 bambini a me, ne mancano 18, ne mancano due. Ma come si chiamano metà degli abitanti di Bergamo? No, come si chiamano? Bergamaschi. E l'altra metà? Bergafemmine. Ma come si chiamano metà degli abitanti di Bergamo? No, come si chiamano? Bergamaschi. E l'altra metà? Bergafemmine. Ascolta, ma chi è il Dio latino del mare? Che non me lo ricordo. Nettuno. Impottibile, qualcuno deve pulentere. Via, ma ascoltiamo, lasciate della scuola, di queste mamme. Mamme, buongiorno. Ha detto la maestra che per fine ottobre le bambine si devono vestire da auline. A parte che l'auline ai bambini non si può dare. Ma Righi, ma che mi fa con questo auline? Allora, se siamo tutte d'accordo, io propongo almeno che siamo lì da Nurofen, che quella ai bambini si può dare. Pursi un Nurofen è più per maschietto, secondo me. Allora facciamo così, vi propongo. Le bambine da aspirina e maschietti da Nurofen. Voi che dite? A me su auline non mi piace proprio. No, no. Ma io li vestirei da occhi. Amore, io me la farei da occhi, vieni con me. In garage ho una pistola. Se un giorno ti dovessi dire di no, usala e uccidemi pure. Ma no, e io con me come faccio? A me su auline non mi piace, vieni con me. No, no. No. No.